Il coordinamento degli psichiatri toscani è nato nel 2005, quando ancora le chat non c'erano. Anche in quell'occasione, che non voglio lontanamente paragonare alla drammaticità dei fatti di Pisa, si era venuta però a creare una situazione insostenibile, perché si era deciso di calare dall'alto un modello di lavoro che era assolutamente difforme dal nostro e che si fondava su una totale squalifica e diffidenza nei confronti della formazione tecnico-scientifica di tipo psichiatrico, psicoterapeutico, forzando il modello di lavoro esclusivamente dal punto di vista socio-assistenziale. E questa sostituzione etnica veniva in qualche maniera portata avanti anche con dei metodi piuttosto manipolatori e che passavano attraverso la frammentazione del gruppo di lavoro. Per cui dopo una fase di sofferenza importante che poteva portare a esplodere o a implodere, ci siamo chiesti come si poteva trovare una modalità per venirne fuori e la modalità è stata simile un po' a quella delle chat, nel senso che è stata quella di lanciare un SOS agli altri colleghi intorno che ha raggiunto poi tutti i servizi della Toscana. Chiaramente all'epoca non c'erano i social e quindi questo ha significato fatica, chilometri, incontri di persona, però poi la risposta è andata addirittura al di là delle nostre aspettative perché evidentemente questa era un'esigenza sentita da tutti, cioè tutti sentivamo il bisogno di esserci più vicini e sostenersi reciprocamente nei confronti di fattori di attacco di varia natura. E quindi abbiamo, ci siamo incontrati e abbiamo messo insieme una serie di punti che potevano rappresentare un denominatore comune del nostro modo di lavorare e che quindi volevamo in qualche maniera segnalare e rivendicare che abbiamo chiamato poi Modello Toscano per la salute mentale che si fonda su alcuni elementi basilari che potranno sembrarvi in parte scontati ma che vi assicuro non lo sono e meno che mai lo erano in quel momento lì e cioè un approccio bio psicosociale ai disturbi psichici, quindi fuori da qualsiasi tipo di riduzionismo, un'equip multiprofessionale, un'equip unica tra ospedale e territorio, questa diciamo che è una modalità di lavoro tipica dei servizi della Toscana e poco presente all'esterno, un corretto dimensionamento dei servizi affinché possano mantenere un funzionamento gruppale in senso stretto, una offerta di intervento su tutto l'arco diagnostico e quindi non soltanto sui disturbi gravi, non soltanto sulla cronicità, un lavoro di rete con la comunità sociale di riferimento. Questo documento è stato all'epoca sottoscritto da 150 psichiatri e ha rappresentato per noi una mappa alla quale abbiamo fatto riferimento nella perigliosa navigazione dei nostri servizi nell'arco di tutti questi anni, di questi quasi 20 anni dalla nascita del coordinamento. Su questa base siamo andati ad interloquire con le varie istituzioni e abbiamo cercato di reggere via via gli urti e le pressioni che si sono presentate. Un gruppo più ristretto si è fatto carico di allestire iniziative, organizzare azioni e soprattutto abbiamo continuato a incontrarci una volta al mese pur non arrivando mai a una formalizzazione stretta del coordinamento ma non è stato necessario perché evidentemente questo è stato per tutti uno spazio prezioso nel quale poter leggere i fenomeni, dargli un'interpretazione e di volta in volta aggiustare il tiro. Chiaramente su questa base quando si è profilata all'orizzonte l'ipotesi della legge 81 è scattato l'allarme, tant'è vero che è del 2013 il nostro convegno di Empoli dal titolo chiude l'OPG, condivisione di paure e responsabilità. Quello che era l'aspetto, la preoccupazione centrale era la delega totale che si veniva a realizzare delle funzioni di cura e di custodia ai sanitari. Quindi pur in un'ottica di riorganizzazione che voleva essere migliorativa in realtà si annidava una confusione di ruoli che rischiava di riportare indietro i nostri servizi di decenni in termini di stigma per tutta quella parte di popolazione che nel frattempo aveva imparato a rivolgersi ai servizi e tra l'altro dalla quale venivano distolte in parte le risorse per essere destinate a una fetta marginale di popolazione che avrebbe assorbito la gran parte. Quindi diciamo che c'era questo fattore, diciamo questo elemento concettuale molto preoccupante che abbiamo immaginato che poi avrebbe avuto ripercussioni non soltanto a partire dalle REMS su tutte le altre parti del servizio, sugli SPDC ma anche sui pronto soccorso, non solo ma dal punto di vista pratico ci sarebbe stato l'altro problema e cioè il passaggio da una struttura come era l'OPG ad un'altra alla REMS a connotazione diciamo così più benigna avrebbe probabilmente portato ad un aumento degli invii che con un numero di posti in REMS calcolato a ribasso di certo avrebbe provocato poi un ingorgo a monte. Probabilmente queste previsioni erano facili da fare perché poi insomma si sono rivelate effettivamente come veritiere e penso che sia ahimè esperienza di tutti il constatare questa aspettativa nei confronti della salute mentale a svolgere una funzione di controllo sociale nonché i posti letto e degli SPDC quasi cronicamente occupati per lungo tempo da soggetti autori di reato. Dall'ora in poi siamo andati avanti a diciamo a accogliere tutte le occasioni possibili per segnalare questa criticità per cui voi capirete che quando è successo c'è stata l'uccisione di Barbara Capovani questa sensibilità già era molto forte nel nostro gruppo e la chat ci ha dato la possibilità di sottoporre le nostre riflessioni a un numero di colleghi con cui non avremmo mai potuto confrontarci senza questo strumento. Io direi che se si pensa a quelli che possono essere i rischi connessi allo scambio in chat, che possono essere il rischio del conformismo, il rischio dell'attivismo pigro che poi non esce dalla chat, il rischio della polarizzazione su posizioni estreme che poi non sono esportabili nell'offline. Se si pensa a tutto questo io credo che questi rischi al di là di episodi così di conformismo che a momenti si sono verificati oppure di sfoghi che sono andati un po' di più su posizioni estreme. Al di là di questo secondo me in realtà lo scambio è rimasto uno scambio autentico, interessante e competente perché nessuno di noi è nato con le chat, tutti abbiamo una nostra formazione, una nostra preparazione precedente. Quindi io auspico che al di là della nostra proposta, la nostra proposta un pochino conoscete quale è, ci siano degli elementi comuni a tutti che sono il rifiuto del compito di cura e custodia soltanto su noi sanitari, il comunque assolutamente farci carico delle responsabilità di cura, non voler abbandonare i pazienti in alcun modo, io credo che a partire da questi punti comuni possa crescere una condivisione che faccia diventare questo movimento non soltanto uno sciame volatile che finisce con la stessa velocità con cui si è costituito ma una massa critica che possa portare al cambiamento. Grazie a tutti.